La giornata però si è aperta con un'altra partita, la vittoria delle Catania sulla Ternana per 2-0. Oltre un momento davvero più che positivo, quello della squadra etnea, la quinta vittoria di fila. Continua la grande galoppata e rincorsa del Catania di Dario Marcolin verso i play-off. Vero miraggio poco più di un mese fa e adesso traguardo lì ad un passo, ad appena 4 punti, aspettando che giochino le altre. Al massimino arriva la quinta vittoria consecutiva per gli etnei, che sembrano aver trovato la strada giusta per ambire concretamente alla promozione nella massima serie. I rosa-azzurri battono anche la Ternana di Attilio Tesserra, tra le migliori squadre del campionato cadetto in trasferta e reduce da 4 risultati utili di fila. Il Catania ci prova da subito a sbloccare il risultato, ma gli Umbri sono ben disposti in campo e chiudono gli spazi per poi riproporsi in contropiede. La partita si accende sul finale di primo tempo, con i ritmi che si alzano e le due squadre che si allungano. E proprio nel recupero arriva il vantaggio dei padroni di casa, Rosina Pennella dalla sinistra per Magnero, che anticipa Valiant e batte Brignoli per l'1-0, diciottesimo centro in campionato per lui, il settimo in terra etnea. Nel secondo tempo i Rossoverdi alzano il proprio baricentro alla ricerca della rete del pareggio, ma stavolta sono gli uomini di Marco Lina a riuscire nell'intento di rendere sterili i tentativi degli ospiti. Il tecnico Bresciano richiama allora in panchina l'autore del gol Riccardo Magnero e inserisce l'argentino Lucas Castro. Ma il cambio fu così azzeccato e dopo pochi minuti è proprio il pata a chiudere il match. Ben lanciato da Calaio in contropiede, Castro prende alla sprovvista il duo Valiant e Janse e batte Brignoli con un preciso pallonetto al minuto 77. La partita si trascina verso la fine senza ulteriori emozioni, chiudendosi così sul 2-0 per i padroni di casa. Una sconfitta che costringe la Ternana a guardarsi alle spalle, mentre Catania dopo tempo torna a risplendere finalmente il sole. Questo allora è il quadro complessivo di questa 37esima giornata. Come detto abbiamo visto i gol degli anticipi del 2-0 nella Catania sulla Ternana e dell'1-1 con tante polemiche tra Bari e Bologna. Alle 15 nel programma tutte le altre partite. Lanciano Pescara, Spezia Trapani, Avellino Virtus Entella, Frosinone Carpi, Brescia Cittadella, Modena Crotone, Pervercelli Latina, Perugia Livorno, Vicenza Varese. Questo è il quadro complessivo ma diamo uno sguardo anche alla classifica perché il pareggio del Bologna di ieri mette in difficoltà proprio gli etnei e gli bolognesi perché devono assolutamente sperare nella sconfitta del Frosinone. Dicevamo 74 punti per il Carpi, 60 per il Bologna, 59 per il Vicenza, 58 punti per il Frosinone, 54 per il Perugia, Avellino 53 punti, 52 per il Livorno, 51 punti per Pescara e Spezia, 48 punti per la Virtus Lanciano, 47 per il Catania che davvero come detto nel nostro servizio a pari merito col Bari ha davvero fatto dei passi in avanti davvero strepitosi. Questo per quanto riguarda il calcio ma spazio.